Dunque, che il popolo non esista, non esista come entità originaria autonoma, lo sapeva benissimo Thomas Hobbes nel 600, lo sapeva benissimo Thomas Hobbes nel 600 quando configurava uno stato di natura bellicoso, la guerra di ciascuno contro tutti e il popolo si costruisce solo attraverso l'Eviatano, attraverso lo Stato. Allora un tessuto, diceva lei Cacciari, di alterità e non la società liquida, tessuto di alterità e lei ha parlato di alterità però parlando degli stati quando parlava dell'Europa, ma all'interno della società tra individui e tra gruppi sociali è la stessa cosa? Lo psicanalista Thanopoulos dice che per arrivare a un amore autentico è necessario attraversare l'odio perché se non c'è riconoscimento dell'altro come altro non è possibile amare, non è possibile costruire io dico una fraternità conflittuale, una fraternità non una solidarietà semplicemente conflittuale e allora dentro la società come evitare la guerra civile e per concludere dopo aver costruito necessariamente un'antropologia politica che esplichi il carattere conflittuale della fraternità stessa non è forse necessario andare oltre lo Stato. Grazie, Francesco se ti sei prenotato prendiamo le domande in un unico giro e poi facciamo una chiusura. Più che una domanda da militante e attivista dei centri sociali credo che lei ha colto il NES, una parte importante del ragionamento, cioè o interveniamo subito o troviamo la maniera di interrompere la narrazione salviniana, di Maio non lo citiamo nemmeno perché è un utile idiota all'interno di un palcoscenico pittoresco, credo che il problema sia proprio quello, cioè quello di recuperare la possibilità di quell'alleanza ribelli democratici, ne rappresentiamo in questo caso i ribelli, e di trovare l'interruzione della narrazione populista. Per fare questo ovviamente elementi di teoria come quelli che stasera abbiamo utilizzato, che ci sono stati posti su come dire la nostra discussione serale allo Sherwood Festival ci sono, credo che però ci voglia anche il coraggio e quello che la sinistra in questo paese ha mancato è anche la capacità di cogliere l'attimo, cioè io credo che tu citavi i Ventimiglia come in qualche maniera possibilità di rompere sulla scena del dibattito sulle migrazioni dicendo prendo un po' di migranti, li porto verso la Francia vedo cosa succede, se si apre uno spazio comincio a fare politica interrogando i governi perché noi poi dobbiamo sfidare Salvini su questo terreno, li vogliamo far passare noi magari i migranti dall'Italia all'Austria, questo concetto di mitte l'Europa pericolosissimo su questo asse in costruzione, vogliamo romperlo in qualche maniera, vogliamo adottare delle parole e anche la capacità di rompere cosa che abbiamo fatto nel ciclo global nel quale ci siamo confrontati varie volte, cioè avevamo la capacità come movimento di essere sul palcoscenico nazionale e quando dicevamo attenzione che la globalizzazione fatta in questa maniera produrrà dei disastri e abbiamo agito come delle Cassandre, ma abbiamo agito e agire come Cassandre non è una cosa che poi cambia il quadro politico generale perché poi andiamo a verificare che quello che si è detto produce risultati in un senso o nell'altro eccetera eccetera, per cui io credo che andrebbe anche come dire riformulata quell'alleanza democratici e ribelli, noi dobbiamo trovare lo spazio politico per andare a Roma, per giocare nelle pagine dei giornali una dinamica di rottura, ma non tanto di rottura dello scontro come dire mimato oppure di rottura come i due lacrimogeni che avvengono in una piazza, ma rottura proprio di narrazione e su questo dobbiamo ricominciare a usare i corpi, dobbiamo ricominciare a usare i media, cosa che sapevamo fare e in questo capire se questa alleanza è ancora possibile perché qui non è il fronte popolare, il fronte repubblicano o qualcosa del genere, qui è una volta dicevamo vogliamo un mondo migliore, adesso vogliamo difendere la possibilità di sognare un mondo migliore. Grazie Francesco, allora io se non ci sono altre domande le lascio una replica di chiusura su questioni importanti che sono state sollevate. Sì è così, è solo attraverso una opposizione che tu puoi anche giungere al riconoscimento dell'altro, se no è buonissimo per dirla così in politichese spicciolo, è chiaro, non hai nessuna, non c'è nessun immediato, una relazione immediata di amore, di amicizia eccetera, è qualcosa di animale, è chiaro, cioè quindi prima deve esserci un'opposizione, tu devi sentire un contrasto, tu devi sentire una diversità e poi e poi e poi l'intelligenza matura attraverso questa opposizione conosce meglio se stessa, comprende la necessità della relazione con l'altro e via via elabora un dialogo, elabora una dialettica, ma non c'è nulla di assicurato in questo, l'opposizione se mancano i modi, se mancano i mezzi, se mancano i linguaggi per maturarli in questa direzione, l'opposizione può anche diventare in ogni momento guerra civile, certo, perché no? Non c'è niente di assicurato, è in cerca di una ricetta che assicuri, non c'è, c'è l'arrischio, c'è l'arrischio in tutte le azioni politiche, in tutte le forme umane del fare, esattamente come ho idea di scrivere un libro o di fare qualcosa e poi non mi riesce, mi metto all'opera e poi si vede, comprendendo dapprima se mi riesci, comprendendo dapprima l'arrischio che corro, c'è l'opposizione, mica dico, no, io sono identico all'altro, no, non siamo identici per niente, non siamo identici per niente, ci mancherebbe altro, se no l'idea di uguaglianza contraddirebbe con l'idea di libertà, no? È evidente, perché io sono libero perché? Per essere uguale a te, no, niente affatto, io sono libero per essere diverso da te, perché mi si concede di essere diverso da te, perché possa essere diverso da te, per questo sono libero. E allora questa diversità deve condurre necessariamente delle nemicizie, ma niente affatto, io sono libero per essere diverso da te, ma dalla diversità non si produce di per sé niente affatto in nemicizia, però può darsi che sì. E questo dipende dalla forza intellettuale mia e dalla forza dell'organizzazione in cui sono, che mi faccia capire che la diversità non è questione di alterità nemica. Questo è il punto fondamentale, perché poi le cose le capisco anche da solo, ma meglio le capisco se all'interno di un'organizzazione, se faccio parte di un gruppo, se mi confronto all'interno con altri. Perché sono nate le forze politiche, perché sono nati i partiti politici, per quale ragione? Se non, diciamo così, educarmi da quella che può essere la mia sensazione o la mia intelligenza individuale. Sulla seconda questione sono molto d'accordo, sono molto d'accordo, cioè vi è da vedere come si organizza quella che appunto si è detta l'interruzione e aggiungerei il rovesciamento della narrazione che sta dilagando, che ha fondate ragioni di speranza, ahimè, fondate. Quella per me più grave è quella a cui prima facevamo riferimento riguardo alla situazione mitteleuropea tedesca, ma ce ne sono altre insomma, tante altre. Quindi bisogna cercare di vedere come, diciamo quelle che una volta si sarebbe detto con termini per carità osceno, ma insomma le avanguardie, chiamatele come volete, di come riuscire a farle agire e reagire all'interno anche di quelle organizzazioni che per ragioni anche obiettive, perché adesso sono all'opposizione, perché adesso sembrano non contare nulla, ma insomma che svolgono un ruolo istituzionale, un ruolo politico nazionale eccetera eccetera, di come queste coscienze possano agire nel far mutare rotta queste organizzazioni, nel dettarne le prossime scadenze, in modo da avere appunto quella visibilità che tu dicevi, in modo da ottenere quella visibilità che tu dicevi, perché oggi appunto il problema è che una certa coscienza della situazione e una certa volontà di interrompere quella narrazione sembrano essere assolutamente minoritarie, come non l'erano mai state in fondo nel passato, assolutamente minoritarie, perché nel passato bene o male un certo movimento, magari in modo del tutto polemico quella diversità che prima si diceva, però agiva, reagiva all'interno dei livelli istituzionali in qualche modo, magari polemicamente basta, ma c'era una relazione. Oggi quella relazione si è interrotta, hai da una parte forze di mera opposizione, ma di opposizione su che? Non si capisce, perché appunto sono quelle stesse che hanno condotto in gran parte agli attuali disastri e movimenti, chiamiamoli di avanguardia, che non si vedono, che non appaiono. Bisogna tentare di fare, io penso, se ho capito bene, esattamente quello che l'intervento diceva, proponeva. Bisogna cercare di vedere che questa relazione tra livelli istituzionali e movimenti nasca, si determini in qualche forma, si definisca, perlomeno che si esprima una volontà di farlo, una volontà di farlo e di andare in quella direzione. Io credo che anche perché i livelli politici istituzionali sono nella crisi in cui tutti sono consapevoli, insomma, sono una crisi che potrebbe anche condurre a loro disfarsi radicale, perché ragioniamo anche di questo, se volete, tanto per raggiungere ottimismo o pessimismo ai discorsi già fatti, potrebbe anche darsi, perché ormai la situazione è tale per cui non è assolutamente assicurata la sopravvivenza di quello che residua di quella cultura politica. Perché se, come sembra, pensano di andare ad un congresso tra un anno e da qui a un anno l'unica azione che sono in grado di svolgere è quella di trovare degli accordi interni per eleggere un segretario, da qui a un anno non esistono più. E non è che, e non è che sarà semplice sostituirli con che, si dispano e basta, non è che nascerà qualcosa di diverso. Si dispano e basta e si andrà, e quello che rimane di questa, tra virgolette, cultura politica, andrà tra astensione, un altro po' i 5 stelle e ormai sempre di più anche alla Lega. Tanto per cambiare. Ecco, allora bisogna reagire. Il discorso c'è, si può fare, si può formare, si può giungere a documenti, manifesti, qualcosa intorno ai quali vedere di ricostruire un minimo di relazioni, di rapporti e i movimenti come il vostro, come i vostri, eccetera, eccetera. Per questo ritengo importante l'intervento che ho sentito, avere anche questo obiettivo, insomma, avere anche questo obiettivo, nella loro autonomia, eccetera, eccetera, tutto quello che vogliamo avere anche questo obiettivo. Cioè capendo la drammaticità della situazione, riallacciare, polemicamente come si vuole, ma riallacciare i rapporti con il livello istituzionale e dire, badate, che se finalmente avete capito quello che avete commesso e avete capito la drammaticità della situazione, perché ormai siamo alla vigilia di, come Salvini ha capito, della possibilità di una grande forza di destra europea, se avete capito, bene, ci siamo anche noi, se avete capito tutto questo e su questo volete segnare una discontinuità reale, ci siamo anche noi, ci sono anche questi movimenti, ci sono anche queste realtà con le quali è possibile lavorare. Se esce questo discorso netto, preciso, chiaro, da movimenti come il vostro, io penso che sarebbe una cosa davvero utilissima e urgentissima grazie a Massimo Cacciari per questa interessantissima chiacchierata per essere stato con noi. Mi sembra di poter chiudere dicendo che se di lunga marcia attraverso il populismo si tratta, va, come diceva adesso, intrapresa da noi senza paura, perché a grandi populismi razionali corrispondono sicuramente grandi rivoluzioni, grandi lotte, non in senso teologico, in senso storicista, ma nel quotidiano del nostro fare politica, nel quotidiano del nostro fare società, nel quotidiano del nostro creare forme di vita in comune. Esistono, se la mitte l'Europa dice male, esistono tante geografie nel mondo, esistono tante posizioni, esistono tanti generi che sono geografie, generi, forme di vita in lotta, si tratta di conoscerle e attivarle, renderle vive nel quotidiano di quello che noi facciamo e nella nostra forma di vita. Grazie ancora a tutti voi.